vi aspettiamo giovedì 28 settembre corso umberto primo mondragone caserta artigianati in arte per rilanciare la buona immagine del nostro paese la kermesse sarà caratterizzata da un percorso culturale che inizierà da palazzo ducale e terminerà al museo civico parteciperà alla manifestazione il liceo artistico di cascano a seguire pressocorso umberto primo il mercatino dell'artigianato artistico durante l'evento potremo gustare alcune delizie presso l'angolo braceria castagna sfizia la brace vino e formaggi con miele locale in compagnia del tenore e posteggiatore sergio casalino il gruppo della nuova compagnia di canti popolari lo spettacolo snake show di mario rupino tra fuoco e serpenti questo evento è stato sponsorizzato dal gruppo bianchino maestri di qualità freschezza e convenienza saluti da montragone dall'armata montragonese artigianato in arte 28 settembre montragone casetta contatta la nostra pagina per la sua felicità di sanno musica e di sanno musica Grazie a tutti